salve a tutti amici e amiche oggi pomeriggio accolgo la richiesta di gabriele che mi ha scritto poche ore fa sarebbe fantastico un confronto fra mig 29 f16 e su 27 f15 con relative versioni 4 aerei che amo alla follia per il resto complimenti allora gabriele premetto che hai scelto quattro aerei che meriterebbero ognuno un video a parte quindi per forza di cose dovrò sintetizzare cioè non posso affrontarli in modo approfondito altrimenti il video duderebbe troppo come sempre prima di iniziare qui in basso a sinistra c'è il pulsantino per iscriversi al canale se volete sostenermi in termini di comparazione vorrei sfatare un falso mito cioè per il senso comune si tende a confrontare gli aerei militari come se fosse una specie di gara passatemi il termine ma la realtà non è così questo approccio è nato un poco a causa della stampa e delle riviste generaliste prima e poi history channel ha fatto il danno proprio i disastri però è bene sottolineare che non esiste e non è mai esistita una specie di gara o confronto diretto fra i costruttori di aeroplani queste macchine in senso moderno non sono state sempre costruite per rispondere a delle specifiche che venivano prodotte dai governi le specifiche proprio si dice in gergo militare sono state costruite per questi motivi più che come risposta ad eventuali controparti che poi la stampa e la propaganda ha sempre cercato di farci credere il contrario è un altro discorso quindi se prendiamo ad esempio i classici confronti come per esempio message meet bf 109 verso spitfire oppure f86 sebre verso 1015 o f 104 verso mig 21 f4 verso mig 21 f16 verso mig 29 f15 verso su 27 per chi conosce la materia sa bene che non è così semplice non è così che funziona perché non è che poi la guerra aerea avviene come nei videogiochi a suon di dogfight o si fa gara a chi ha il missile migliore non è una faccenda così semplice ecco così fabbriche come la tedesca message meet nella seconda guerra mondiale non ha costruito il bf 109 avendo un modello di spitfire a disposizione e cercando di fare di meglio così casa su coi il su 27 è nato sì per rispondere ad una specifica per un caccia per la difesa dello spazio aereo dell'epoca mentre le f15 nasceva inizialmente per sostituire tutta la linea di caccia intercettori tipo delta dart o f4 e poi anche per rispondere alla specifica di un caccia per la superiorità aerea secondo proprio l'approccio tattico della guerra aerea americano quindi in un certo senso questi confronti diretti uno contro uno possono aiutare a capire le tecnologie e le prestazioni però in realtà non sono molto di più cioè i duelli aerei reali che si sono verificati andrebbero poi visti caso per caso non sono determinati per poter dire che un aereo fosse meglio dell'altro in sostanza il bf 109 tedesco era molto simile allo spitfire per prestazioni entrambi gli aeroplani rappresentavano uno sforzo ingegneristico per portare al limite le potenze dei propulsori che all'epoca erano a pistoni e l'aerodinamica di aeroplani che erano semplici senza fly by wire o aiuti idraulici quindi a quelle velocità fattori di carico i piloti sopportavano al limite i g senza svenire quindi le differenze nelle prestazioni fra questi due aeroplani erano minime e rappresentavano di più i compromessi ingegneristici per poter avere migliori caratteristiche in un senso piuttosto che l'altro veniamo quindi al topic di questo video partiamo con il confronto fra mig 29 ed f16 ho sentito spesso questa idea per cui il mig 29 sarebbe la risposta all f16 su 27 all f15 e addirittura il mig 25 all sr 71 non è andata proprio così ma in un certo senso possiamo ricondurre lo sviluppo di questi aerei alla continua ricerca della velocità che è iniziata nel corso della seconda guerra mondiale e poi avuto il suo culmine alla fine degli anni 70 con l'arrivo dei missili intercontinentali facendo un piccolo passo indietro quindi possiamo identificare con l'xb valkyrie e poi con il bisonico di serie b 58 hustler due progetti che puntavano proprio sul concetto di bombardiere supersonico in grado di consegnare bombe e bombe nucleari oltre la linea nemica quindi questi sviluppi tecnologici americani preoccuparono non poco i sovietici che immaginavano uno scenario in cui gli americani li avrebbero potuti attaccare da più fronti con questi bombardieri supersonici e con un territorio così vasto chiaramente avevano bisogno di un grande caccia intercettore ampiamente supersonico e dalla grande autonomia nasceva così il mig 25 e fece la sua comparsa ed entrò in servizio nel 1970 con le sue prestazioni mise in allarme tutto l'occidente il primo avvistamento fu da parte di israele dei piloti df4 phantom dissero di aver visto 4 mig 25 volare a velocità superiori a mach 3 ora sul discorso di velocità è importante capire che la guerra aerea tipo da sempre punta su questo elemento perché in teoria l'aereo più veloce permette di scegliere il combattimento entrare e uscire dallo scontro quando vuole a proprio piacimento e di fatto la manovrabilità o l'idea del dogfight era considerata una cosa già sbagliata nel 1915 per intenderci dalla prima guerra mondiale quindi sia all'aereo se si ha a disposizione l'aereo più veloce poi se a questo si aggiungono i missili è chiaro che un sasso lanciato con la rincorsa va molto più lontano e più velocemente di uno lanciato da fermo ci siamo capiti quindi i valori energetici del mig 25 assieme ad un potente radar e missili a infrarossi e semiattivi preoccuparono un po con l'occidente e gli stati uniti pensarono di dover fare in qualche modo qualcosa di dover riconquistare il primato tecnologico e la superiorità aerea negli anni successivi si misero al lavoro quindi per costruire qualcosa che fosse avanti sotto tutti i punti di vista tecnologico radaristico missilistico e che avesse prestazioni in grado di competere con la controparte russa e così si misero all'opera sullo sviluppo dell'f15 mentre gli studi sull'f14 andavano avanti e portavano al primo volo dell'f14 la soluzione imbarcata appunto nel 1970 e dell'f15 per l'usa air force nel 1972 entrati poi in servizio rispettivamente nel 1974 e 76 quest'ultimo anno il 1976 fra l'altro fu interessante anche per un piccolo fatto storico ma molto rilevante il tenente Viktor Belenko infatti a bordo del suo MiG-25 decise di disertare allontanandosi dalla base aerea di Sakharovska dopo 800 chilometri di volo atterrò in Giappone che ormai era praticamente a secco questo esemplare di MiG-25 fu un'occasione veramente ghiotta per le autorità giapponesi e americane che prima di restituirlo nonostante le proteste sovietiche ebbero modo di studiarlo a fondo nei suoi materiali i motori le contromisure elettroniche e il suo radar il tenente Belenko poi fu interrogato a lungo fornendo informazioni sensibili dichiarò che la velocità di un MiG-25 con il carico massimo non superava i Mach 2,8 mentre in ricognizione disarmato poteva arrivare fino a Mach 3 ma comunque non era facile superare i Mach 2,6 disse che i piloti di MiG-25 non dovevano oltrepassare Mach 2,5 senza essere autorizzati perché oltre queste velocità l'aereo e in particolare i motori iniziavano a danneggiarsi il fatto portò ad un sostanziale miglioramento delle capacità difensive del Giappone con l'aggiornamento dei radar di difesa aerea e l'acquisto degli aeriradar E-2 Hawkeye e del F-15 J Eagle giapponese la cosa più interessante di questo evento fu che alla fine il MiG-25 si rilevò un falso mito cioè per carità era un aereo molto veloce ma di fatto un mattone con un limite di carico a 4,5 g 3 g a pieno carico quindi praticamente era un aereo fatto all'80% da serbatoi per alimentare i due enormi motori e pensato per andare dritto credetemi per un aereo militare un limite di 3 g è davvero troppo poco la stessa cosa si notò per i sistemi e delle avioniche e certo le dimensioni dell'aereo permettevano di equipaggiarsi con una grossa antenna e il radar TL-25 Smerch già visto sul vecchio intercettore Tu-128 ma era un radar pensato per intercettare i grandi bombardieri americani quindi con grandi limiti nella capacità di look down cioè di guardare verso il basso e badate bene che sto parlando della prima versione del MiG-25 no quella degli anni 70 oggi la versione aggiornata è il MiG-31 seppure rappresentando un retaggio della guerra fredda è ancora un aereo che non vira vola dritto praticamente resta un aereo molto veloce ha subito degli aggiornamenti con un radar migliore digitale però non lo si vede praticamente più nelle missioni di pattugliamento aereo da tanto tempo gli avvistamenti sono finiti più di vent'anni fa oggi viene usato perché con le sue buone doti di accelerazione e velocità è una piattaforma ideale per lanciare i missili ipersonici Kinjal quindi da intercettore aria-aria è diventato praticamente un aereo usato esclusivamente per lanciare i missili aria-terra le dimensioni di questo aereo e anche le sue caratteristiche di volo non buone per tutte le situazioni lo rendono un oggetto completamente inadatto e fuori dal tempo per la guerra aerea moderna ma in ogni caso bisogna riconoscere che fu ampiamente sovrastimato dagli stati uniti e che si preoccuparono così tanto da sviluppare le f-15 eagle per tutta risposta e come dire alla fine realizzarono un aereo che ancora oggi è considerato il migliore al mondo fu concepito come un aereo senza compromessi al fine di ristabilire chi ce l'avesse più grosso l'ego militare intendo gli stati uniti non badarono a spese buttandoci dentro il meglio delle tecnologie disponibili per l'epoca da un punto di vista motoristico e di prestazioni l'f-15 ha battuto il mig 25 sovietico per record dei 30.500 metri in 4 minuti questi primati di arrampicata poi se li vedrà strappare provvisoriamente anche le su 27 per una gara che andrà avanti per un po con una velocità di mach 2,5 2700 chilometri di autonomia una tangenza di oltre 20 chilometri di quota è un fattore di carico fino a 10 g 10 g per intenderci il b-25 era fermo a 4,5 ci danno l'idea del mostro che era l'f-15 ed è stato ed è ancora oggi l'aereo più importante dell'aviazione degli stati uniti con un rulateo di successo di 104 aerei nemici abbattuti e nessuna perdita subita se non in incidenti o in esercitazioni da un punto di vista di avioni che fu chiaro che l'f-15 rappresentava un enorme progresso tecnologico rispetto al passato l'impressionante radar già utilizzato sull'f-14 fu migliorato per l'f-15 la pg 63 un potente radar doppler integrato con i primi computer di bordo aveva una definizione tale da permettere l'identificazione della classe e del tipo di bersaglio e garantiva al pilota un softlock tvs cioè lanciare missili silenziosi e attivi come la in 120 anche se inizialmente utilizzava la in 7 missili silenziosi fino all'80 per cento del loro tragitto ora per capire cosa sto dicendo immaginate un aereo che può volare a mach 2,5 a 20.000 metri di quota identificare un aereo nemico a 150 chilometri di distanza agganciarlo e tirargli un missile ai 100 chilometri senza che lui se ne accorga e quando questo missile alla fine del suo percorso diventa attivo l'allarme del mig 25 di turno inizia a suonare fa b b b b b il pilota tipo a tre secondi per evadere quindi vi lascio immaginare credetemi quando si parla di f-15 non è un'esagerazione e non è la propaganda e non è per essere filo americani che lo si definisce il caccia da superiorità aerea per definizione è così perché è così è una macchina spaventosa e basta e quindi vi lascio immaginare cosa ha significato la sua entrata in servizio per l'ex unione sovietica e per la russia poi di oggi dall f-15c monoposto poi furono realizzate versioni b posto e anche per l'attacco al suolo la versione e denominata strike eagle oggi esiste la versione ex che sta per extended rappresenta l'aereo più importante dell'user force escludendo i 195 f 22 che vabbè sono superiori rispetto alle 15 ovviamente le 15 ex ha subito degli upgrade con moderni radar digitali nelle avioniche e nel data link equipaggiandosi anche con gli am 120 c ed pensati per le f 22 la cosa più importante seppur mantenendo i serbatoi external che sono queste grandi bombature aerodinamiche che contengono più carburante l'aereo è stato rivestito anche con materiali radar assorbenti e sono stati fatti anche studi per rendere meno esposte le prese d'aria e ridurre gli angoli così appunto da ottimizzare sia la radar cross session che la riduzione nella nello spettro della luce ottica e infrarossi quindi ecco l'ultima versione dell'f15 ha cercato di risolvere il suo più grosso problema cioè la non invisibilità problema che aveva in comune con tutti i grandi caccia del suo tempo nati negli anni 70 aerei enormi pensati senza avere nessuna riduzione della sezione radar equivalente e questo è il discorso interessante perché appunto negli anni 80 e l'arrivo delle tecnologie digitali con radar esponenzialmente più potenti e migliore definizione uniti anche alla missilistica che stava facendo progressi poneva grandi interrogativi sull'utilizzo di queste macchine da oltre 20 tonnellate in un certo senso in europa l'adassault in francia ci aveva visto già molto lungo con intercettori come il mirage 3 prima e il mirage 2000 in arrivo aerei piccoli elusivi mostri di accelerazione ed incredibilmente agili e credetemi nella guerra aerea moderna le dimensioni contano ma non come direbbe cicciolina cioè più piccolo è meglio è come me ne esco adesso da questi doppi sensi quindi con questa nuova idea di piccoli aerei la russia capì che con il mig 25 non c'era la trippa per gatti che qualsiasi cosa non sarebbe mai sfuggita all'f15 ma allora cosa fare per arrivare alla soluzione proviamo a immaginarlo e immaginare uno scenario di fantascienza facciamo proprio un gioco mentale pensando solo a degli scontri aerei alle forze aeree schierate in campo quindi semplifichiamo molto le cose è giusto per portare avanti il ragionamento seguitemi immaginiamo che un bel giorno gli stati uniti si svegliano e attaccano la russia o meglio l'unione sovietica perché all'epoca era ancora unione sovietica perché siamo alla fine degli anni 70 quindi grazie alle enormi antenne a terra per il controllo dello spazio aereo gli addetti russi sovietici vedono arrivare mille aeroplani americani e tutti davanti a dei bombardieri che hanno al seguito quindi c'è questo enorme gruppo d'attacco americano con caccia f15 bombardieri eccetera quindi cosa fa l'unione sovietica chiaramente schiera tutto quello che ha i mig 25 e mig 23 questi vengono spazzati via dallo strapotere americano ok e tra l'altro vi mostro proprio in simulazione cosa accadrebbe perché si sa l'f15 l'abbiamo detto è troppo forte alle prestazioni ai radar ai missili migliori attivi bene ma è pur sempre una nazione che invade giusto per quanto quindi per quanto i bombardieri avranno bombardato le piste le città le fabbriche tutto quello che volete a quel punto la nazione che ha subito un'invasione dovrà organizzare la sua resistenza giusto e a quel punto cosa ti serve ti serve un aereo più piccolo pronto al decollo da qualsiasi campo prato hangar nascosto in mezzo alle montagne o fra gli alberi un aereo per la guerra di resistenza più piccolo quindi più difficile da rilevare con il radar e che ti sbuca da sotto ha un sistema elettroottico passivo a infrarossi quindi non lo senti arrivare e ti lancia un missile che non senti lanciare capace di grandissime accelerazioni l'aereo proprio per ottenere subito i valori energetici che ti servono per lanciare i missili e poi scappare immediatamente così tornare alla base nascondersi di nuovo e ripetere la missione e questa è stata l'idea che ha portato allo sviluppo del mig 29 ora a detta di molti il mig 29 nacque proprio come risposta al programma americano delle f15 secondo altri per cercare di replicare o con qualcosa di più moderno il successo stellare del mig 21 ma quindi con 1600 esemplari costruiti i miei 29 è una lunga serie di paesi che poi lo utilizzeranno di sicuro è stato un aereo di grande successo è un aereo estremamente economico con costo unitario di 29 milioni che in italia ci compie praticamente una mx con 29 milioni una velocità di mach 2,3 un'autonomia di 2100 chilometri e tangenze pratiche nell'ordine dei 18 mila metri i punti di forza di questo aeroplano che un po spiegano l'esempio fantascientifico che ho fatto sono proprio le prese d'aria con dei pannelli che si chiudono al suolo e che si aprono come delle fessure che ricordano un po uno squalo così da permettergli di atterrare e decollare da piste semi preparate e non ingerire quindi polveri e detriti e poi delle prestazioni brillanti con un radar pulse doppler n019 che seppure con un raggio limitato a 70 km permetteva ottime prestazioni anche in look down e abbinato con il calcolatore digitale c100 0202 permetteva una specie di track soft lock tvs cioè un aggancio silenzioso ma soprattutto il piatto forte del mig 29 era l'irst eos un sensore termico infrarosso dotato di telemetro che permetteva al mig 29 di agganciare in modo completamente silenzioso qualsiasi altro aereo abbastanza caldo e in contatto visivo chiaramente l'f 15 con le sue enormi prese d'aria frontali le velocità di punta e i suoi post bruciatori era il bersaglio ideale per questo sistema elettorottico infrarossi i missili per il mig 29 furono i più avanzati di progettazione sovietica del tempo partendo dall'r 60 che era praticamente una in nove ricavato dall'ingegneria inversa e rubato o meglio rimasto incastrato in un mig 19 per arrivare al migliore missile aria a corto raggio del tempo l'r 73 un missile capace di fare virata ai 180 gradi per intenderci a cortissimo raggio e quindi attenzione e questo che ho appena descritto ci dà appunto l'idea che il mig 29 era pensato proprio per ingaggiare a corto raggio gli f 15 americani oltre che a questo poi tre nuovi missili che per gli anni 80 si rilevarono molto efficaci e anche superiori all'aim 7 americano stiamo parlando dell'r 27 t a guida infrarossa meglio a medio e corto raggio l'r 27r a guida semiattiva medio e corto raggio e l'r 77 un missile attivo radar a corto raggio le versioni prodotte in gran numero del mig 29 furono la a la versione base che poi anche quella che i piloti ucraini hanno usato in questi due anni di guerra fra l'altro ci sono video in cui si vede lanciare ai piloti ucraini proprio a bordo di un mig 29 lanciano delle armi americane come la gm 88 e la 120 e questi video dimostrano la buona versatilità e l'adattabilità della piattaforma mig 29 la s poi ha subito dei miglioramenti ed è la più prodotta per il mercato interno la versione m è stata l'ultima ad essere aggiornata e ne esistono poi tante altre versioni ma ho menzionato quelle principali con la caduta del muro di berlino e poi anche del crollo dell'unione sovietica i mig 29 sono di fatto entrati negli assetti nato proprio grazie alla germania partendo dalla germania quindi si può dire tranquillamente che i mig 29 oggi non hanno più segreti è una macchina formidabile dalle prestazioni esaltanti piccola agile molto versatile la tecnologia a bordo rispecchi appieno la filosofia di costruzione russa chiaramente non si parla di interfacce digitali avanzate come siamo abituati in occidente ma di sistemi analogici robusti e affidabili che possono essere molto efficienti nel loro contesto come ho detto poi il mig 29 fu costruito per offrire una risposta subdola per una difesa a lungo termine contro un'aviazione più potente di un paese invasore e perdonatemi ma in un certo senso questa previsione di utilizzo non fu mai più vera dato che poi due anni fa i mig 29 ucraini hanno proprio fatto questo lavoro contro la stessa nazione che li aveva costruiti per quello scopo i paesi utilizzatori sono tantissimi ma voglio citare giusto gli stati uniti che oggi hanno 21 mig 29 tra le versioni a b e c acquistati dalla moldavia nel 1997 prima di concludere con i mig 29 riporto altri due fatti interessanti il fatto di aver potuto mettere le mani su questo aereo alla fine degli anni 80 ha permesso all'europa di sviluppare delle contromisure proprio sulle criticità nello spettro della luce infrarossa e ha portato poi allo sviluppo dei sensori i rst che vediamo oggi sull'euro fighter così come la filosofia del combattimento aereo oggi è cambiata e nessuno vuole più costruire grandi aerei massodontici ma si cerca di renderli più piccoli dotati di sensori passivi e grandi agilità in un certo senso quindi le idee che hanno portato lo sviluppo del mig 29 troveranno tante altre conferme ed evoluzioni in europa l'ultima notizia è che sto aspettando la versione completamente cliccabile full fidelity per il mio simulatore proprio del mig 29 quindi in futuro potremmo vedere assieme i sistemi molto più nel dettaglio i manuali di volo e le avioniche andiamo avanti il su 27 lo sviluppo del mig 29 pensato come soluzione ai casi estremi che ho citato comunque non risolveva del tutto la questione sovietica della risposta all'f-15 per un analogo di caccia da superiorità aerea quindi serviva qualcosa che fosse simile per prestazioni una grande piattaforma capace di avere un'enorme autonomia di stracaricarsi di missili e a differenza del mig 25 che potesse anche virare e così la su koi che nei disegni del suo brillante ingegnere pavel su koi disegnava appunto il su 27 lo sviluppo è molto interessante lungo e meriterebbe un video a parte comunque alla fine lo sviluppo della prima versione aveva caratteristiche di volo molto simili a quelle dell'f-15 con velocità di punta nell'ordine di mach 2,3 quindi 2500 km orari una tangenza di 18.000 metri e un'autonomia di 2500 km con 10 punti di attacco fra supporti ventrali e piloni subalari è una discreta capacità di caricarsi anche di bombe e razzi e missili non guidati oltre a tutti i missili che ho menzionato prima che poi ricevettero anche degli aggiornamenti questi missili negli anni fin anni 80 si iniziò a vedere le versioni extended del r27t e del r27er che avranno prestazioni decisamente migliori quasi a livello degli aim 120 come prestazioni come il suo fratello più piccolo e anche più piccolo di dimensioni ma più vecchio d'età il suo 27 si occupaggiava del sensore eos irst ma avendo una sezione più grande quindi un muso anche più grande questa volta i russi montarono un radar anche più potente l'n001 è capace di tracciare fino a 14 oggetti contemporaneamente un sistema datalink integrato fra aereo aereo e evr a terra e awax per una maggiore consapevolezza situazionale tutto questo grazie a poi a un display in basso a destra che permetteva una rappresentazione visiva di facile lettura il suo 27 poi usciva con una sorprendente capacità acrobatica almeno per un aereo da 23 tonnellate qui vorrei sfatare dei falsi miti perché purtroppo ho letto spesso in certi commenti che il suo 27 e le sue versioni successive grazie alla loro manovrabilità la famosa figura acrobatica chiamata cobra potrebbero sbaragliare tutte le controparti occidentali io non so se queste convinzioni sono dovute al secondo film con tom cruise top gun maverick o ai video che circolano in rete che fanno restare a bocca aperta chi non sa nulla di aviazione queste manovre così spinte nel suo 27 nacquero per gioco strapazzando i comandi e il selettore che disattivava il fly by wire da parte dei piloti collaudatori loro stessi definivano la manovra come spettacolare per far applaudire il pubblico aria e show ma ecco da un punto di vista operativo e tattico è una cosa rischiosa e praticamente inutili cioè non è che in combattimento si rallenti e ti fai superare facendo queste cose sei un ganso e chi cerca di spararti rimane stupefatto e non ti spara tentiamoci se l'aereo si ferma per aria è un bersaglio più semplice da colpire fine del discorso quindi separiamo la realtà dalla finzione cinematografica poi nel combattimento aereo ma tipo questo non lo dico io si sa dal 1915 il dogfight è un'idea un po' superata cioè è l'ultima cosa che vuoi è un errore tattico che abbassa drasticamente le tue possibilità di sopravvivenza è una condizione estrema per cui sì o ancora oggi i piloti si addestrano ma che cercano di non di non incontrare mai la velocità in combattimento è tutto ti permette di ingaggiare a tuo piacimento trasformare l'energia da cinetica a potenziale quindi fare i cerchietti virando è comodo solo quando si girano i film cioè dove il cameraman riesce a mettere nella stessa inquadratura gli aerei che girano nello stesso posto ho fatto questa premessa perché amando le linee l'aeroplano su 27 mi fa veramente pena quando qualcuno prova a dire che i russi fanno gli aerei migliori solo per chi ha visto qualche video in cui fanno acrobazie non funziona così come se non esistessero poi dozzine di altri video in cui si vedono f14 f15 f18 fare altrettanto fra l'altro se dobbiamo essere precisi il cobra non l'hanno inventato i russi ma un pilota su un f14 per dirla tutta comunque chi conosce gli aerei russi e in particolare il su 27 sa benissimo che le doti di questo aeroplano sono altre e più interessanti e più importanti di quelle di fare applaudire i bambini aria air show a partire dal radar che finalmente aveva una capacità di acquisizione simile per range e performance a quelle dell'eagle americano e come oggi accennato un sensore passivo che rappresentava un enorme progresso nella guerra aerea senza escludere 10 attacchi per missili 12 su 33 nelle poche versioni che hanno visto la luce per poter essere imbarcati sulla sfortunata porta aerei russa rendevano questo aereo la soluzione per la difesa aerea dello spazio sovietico e russo poi infatti poi l'aereo che rappresenterà la russia ufficialmente fino a oggi il suo deterrente in termini di minaccia aria aria così le sue versioni successive che dal 1984 è stato il pattugliatore di confine principale che viene tutte le volte intercettato ancora oggi dai nostri euro fighter se non quegli inglesi sui confini dell'europa quindi l'aereo che rappresenta di più le forze aeree russe oggi come allora nel corso degli anni ha subito notevoli aggiornamenti a partire dalla prima versione che aveva un layout del cockpit interamente analogico è un poco anacronistico se vogliamo quantomeno se paragonato a un f15 o un f16 così nascevano il su 30 e il su 35 che adottavano radar digitali più moderni l'introduzione di mfd e display un po più al passo con i tempi e alcune sperimentazioni sui motori infatti alcune serie in realtà poche di questi aeroplani di su 30 e su 35 videro alcune soluzioni di motori a spinta vettoriale ora anche qui sappiate che la spinta vettoriale non è l'arma definitiva attenzione l'f22 americano non è che senza una spinta vettoriale sarebbe un altro aereo un aereo scadente questa soluzione permette maggiore manovrabilità alle basse velocità in certe condizioni che di per sé non sono proprio piacevoli in un combattimento aiuta soprattutto gli aerei molto pesanti a restare controllabili ma a parte questo il su 27 era già di suo un aereo maneggevole quindi la spinta vettoriale non è che faccia tanto di più soprattutto poi anche ha anche degli svantaggi perché rende il motore più pesante e più complesso da manutenere e anche più costoso questi studi in russia comunque non sono paragonabili a quelli fatti sull'f22 perché la spinta vettoriale dell'f22 nasceva come nativa per l'aeroplano mentre questi studi sulla spinta vettoriale in russia sono stati fatti in previsione del su 57 e quindi sono stati applicati sulle cellule del su 30 e del su 35 come studio dal momento che il su 57 per chi non lo sapesse è un'evoluzione del su 27 è un po come devo dire un po come un f15 extended che vediamo oggi negli ultimi 20 anni fatti nel tentativo di restare al passo con il mondo la russia sta cercando ha cercato di costruire un aereo con capacità di riduzione della propria firma radar tecnologie digitali e radar più moderni ha sfruttato quindi tutti i suoi upgrade e miglioramenti sulla linea volo precedente per quanto riguarda le avioniche e appunto i motori a spinta vettoriale i problemi di questi propulsori poi che ad oggi sono ancora in fase sperimentale risulta che non sono ancora stati del tutto risolti quindi è per questo che non si vedono montati sulla ventina di su 57 che si vedono in circolazione questo per dire che comunque le manovre acrobatiche cobra spinta vettoriale non sono l'arma segreta cioè le cose importanti sono altre su un aeroplano da combattimento quindi per restare in tema le cose più importanti per un aereo da combattimento sono due fondamentalmente sono le dimensioni e l'accelerazione e quindi arriviamo così all'ultimo aereo di cui parleremo oggi l'f16 la storia di questo aereo è leggenda è stato il primo aereo voluto dai piloti e per i piloti nato a seguita di una vera e propria protesta da parte loro che poi verrà soprannominata the fighter mafia per riassumere un po il discorso i generali i vertici militari quando si parlava di aerei all'epoca sia in america che in russia sono praticamente le persone più ingorde del mondo perché vogliono tutto vogliono tutto quanto nello stesso aereo vogliono l'aereo che intercetti l'SR 71 che possa coprire 8000 km di territorio russo senza rifornire vogliono l'aereo che fa le acrobazie le capriole negli air show vogliono che vinca il dogfight lo vogliono stealth che possa stracaricarsi di missili e bombe che faccia il caffè e decolli in 5 minuti e che costi poco quindi è chiaro che mettere tutte queste cose insieme su un aeroplano viene fuori l'automobile di homer simpson quando in quell'episodio gli chiedono appunto di costruire l'automobile ideale quindi capite che così facendo vengono fuori delle cagate pazzesche come per esempio fu il mig 25 che era ingovernabile velocissimo ma ingovernabile o in america per esempio il prototipo che poi per fortuna non fu mai adottato dell'f 111b che fece infuriare i generali tutte queste opinioni di gente che magari su un aereo non ci aveva mai messo piede fecero arrabbiare non poco i piloti in america che iniziavano a chiedersi quando qualcuno avrebbe progettato un aereo che invece fosse adatto alle loro esigenze di combattimento il pilota da caccia non vuole un aereo da 25 tonnellate che fa il cobra o che ha la spinta vettoriale non gliene frega niente di quelle cose il pilota da caccia vuole un aereo piccolo minuscolo agile e che possa accelerare in un istante per cavarsi via dalle brutte situazioni quando ti tirano addosso un missile in quelle situazioni quando ricevi un missile fare acrobazie non serve a niente non ti salva la vita l'unica cosa che ti salva la vita è l'accelerazione perché ti permette di scappare via come un fulmine energeticamente le dimensioni contano più sei più piccolo più sei difficile da vedere di tracciare via radar e anche a vista in un combattimento ravvicinato sei più difficile da colpire e più è più difficile perché hai tutte queste armi a disposizione a tuo vantaggio e così anche il motore ha una massa più piccola da muovere quindi l'aeroplano può avere continuamente dei alti valori energetici il motore può restare sempre veloce energetico e quindi il combattimento diventa tutto molto più efficiente più dinamico e le situazioni possono cambiare più rapidamente con queste idee della fighter mafia che poi avranno i loro rappresentanti in john boyd promotore proprio dei concetti energetici che ho appena espresso e altri analisti come tom chrisley e pierre spray insieme ad altri energetici ingegneri firmarono una sorta di petizione per poter realizzare un caccia leggero da affiancare all f15 e che rispondesse alle esigenze dei piloti ci fu quindi una vera e propria lotta per i diritti dell'aereo da caccia passatemi il termine e alla fine nel 1974 vedeva la luce il primo volo con il suo primo volo le f16 fighting falcon che poi entrerà in servizio nel 1978 anno in cui sono nato anch'io e devo essere onesto le f16 come me è invecchiato proprio bene non dimostra per niente i suoi 46 anni di età su questo aereo si è detto tanto è molto conosciuto se dovessi limitarmi alle sue prestazioni posso dire che è molto simile al mig 29 stessa concezione agile piccolo un mostro di accelerazione in simulazione è il mio aereo preferito anche se vengo da anni di simulazione sul su 27 l'f16 è l'aereo che non cambieresti con niente al mondo ti fa sentire al sicuro che in qualsiasi momento dai manetta e te ne vai e va di qualsiasi cosa ti tirano addosso e voglio dire in rete ci sono video reali di piloti che hanno evaso fino a sei mistili terra aria per intenderci c'è un pilota americano che è baso 6 sa sei in pochi in pochi secondi tirati uno dietro l'altro io penso che sarei morto di infarto solo a sentire l'allarme suonare le prestazioni di questo aereo rispecchiano le intenzioni del caccia energetico di cui parlavo e per questo motivo ancora oggi non ha rivali e possiamo dire che solo in europa si sono realizzate poi macchine che sono pari o se non superiori come idea l'f16 per citarne a qualcuna il griffen svedese come concezione è molto simile all'f16 o superiori come per esempio il rafale e l'euro fighter questi ultimi due aerei prendono un po le idee dell'f16 e la portano un po più avanti quindi in uno scontro ravvicinato un f16 sarà sempre un avversario pericolosissimo per i grandi aerei come l'f15 su 27 o anche il più moderno su 57 che hanno grandi masse ammesso poi che i piloti riescono a vederlo un f16 a vista perché è veramente troppo piccolo da riuscire a vedere poi prendete quello che sto per dire anche con le pinze ma per esempio nella simulazione di dcs world come riferimento posso riportare che negli ultimi dieci anni ogni anno si sono fatti dei tornei internazionali che hanno coinvolto le squadriglie virtuali di tutti i paesi del mondo e la scelta dei aeroplani è cambiata nel corso del tempo siamo passati agli inizi da un confronto fra f15 e su 27 perché erano solo quelli gli aerei disponibili poi negli ultimi anni sono arrivati aerei dettagliati cliccabili full fidelity infatti negli ultimi cinque anni si utilizzano soltanto f16 ed f18 ma questo non è per una questione di prestazioni soltanto non è perché perché se uno di penserebbe solo le prestazioni e vabbè a sto punto direbbe uso le f15 poi su 27 che arrivano a mac 2,5 no perché per arrivare a mac 2,5 con su 27 ci metti 600 chilometri cioè non è che con gli aeroplani dai manetta e acceleri come una macchina da formula 1 ci vuole tempo e distanza più è grande la massa dell'aeroplano più è lento ad accelerare ed è per questo che le f16 va tanto forte perché accelera in un attimo e arriva subito a mac 1 quel famoso mac 1 che ti permette di lanciare missili pericolosi ti permette di passare molto velocemente da una condizione difensiva a una condizione offensiva e viceversa ma soprattutto poi c'è un'altra cosa delle f16 che è forse la più importante l'avionica nella mia vita ho visto i cockpit di dozzine di aeroplani spesso dal vivo alcuni li conosco come le mie tasco tasche ci sono soluzioni molto diverse soluzioni analogiche digitali per tutti i gusti ed epoca generalmente la disposizione degli strumenti a porto di aeroplano quasi mai è stata fatta con discrezione cioè in modo oggi diremmo ergonomico cosa significa non è stata fatta per per essere facile c'è tutta una filosofia in genere si mettono gli strumenti dove arriva il filo o per disposizione per motivi di spazio l'unico aeroplano che sembra essere pensato per essere vestito come un guanto per il pilota è proprio l'f16 ha una disposizione del cockpit degli strumenti pensata per fare tutto in modo semplice e intuitivo è come un'astronave se paragonato a un mig 29 al cockpit di mig 29 c'è veramente un abisso non tanto nella differenza nella qualità tecnologica che da un punto di vista di capacità alla fine il radar del mig 29 e radar del f16 hanno potenze molto simili ma è proprio nell'interfaccia con il pilota i pulsanti necessari per operare l'aeroplano per l'acquisizione la visualizzazione dei dati durante tutto l'inviluppo di volo e in particolare per il combattimento aria aria in sostanza la fighter mafia ha rivoluzionato il modo di combattere in aria aria con dei concetti che oggi sono fondamentali e che poi vediamo per esempio sull'euro fighter e sull'f35 dove il pilota ha tutto sotto controllo in modo semplice con interfaccia grafiche intuitive e quindi deve solo concentrarsi sull'azione delle f16 se ne potrebbe parlare a lungo delle sue caratteristiche ne ho già parlate parlato in un altro video che vi passo in descrizione nel corso del tempo ne sono uscite tante varianti denominate block la più significativa è la block 70 72 che ha un motore controllato digitalmente un sistema data link più aggiornato ed è anche la più moderna e più apprezzata dai piloti altre versioni successive hanno visto integrarsi anche dei serbatoi external posizionati sopra la fusoliera che sono forse gli f16 più brutti che si possono vedere in giro però aumentano molto l'autonomia dell'aeroplano che di per sé è proprio forse l'unica nota dolente del progetto non è un aereo che ha una grande autonomia è chiaro poi non è paragonabile a un f15 o un su 27 non può stare in volo così tanto e non può portare tutta quella quantità di missili come i fratelli maggiori ma a parte questo resta un aereo formidabile che non ha mai avuto concorrenti alla sua altezza in italia lo abbiamo avuto per un breve periodo di transizione prima del passaggio all'euro fighter 34 esemplari fra le versioni di prima serie e biposto ho sentito voci che alcuni piloti che sono poi passati all'euro fighter lo rimpiangono ancora e ci credo la visibilità con quel tettuccio senza montanti la disposizione dei comandi la semplicità con cui si utilizzava non sono paragonabili all'euro fighter che è una macchina molto più complessa seppure ha prestazioni migliori uno di questi esemplari oggi è esposto al museo di vigna di valle proprio accanto a un euro fighter vederli insieme oltre che essere emozionante ci dà l'idea delle proporzioni e della bellezza eterna delle linee dell'f16 bene siamo in dirittura di arrivo quindi perdonatemi ma oggi è stata una lunga chiacchierata e non poteva essere altrimenti vista la vastità degli argomenti trattati in futuro tornerò sicuramente a parlare del mig 29 e dell'f16 questo è certo ma prossimamente su questi schermi udite udite arriverà l'f4 phantom quindi restate sintonizzati e questo è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre un abbraccio alla prossima